Ci ha raggiunto in studio la candidata Giovanna Ubalducci per le liste Insieme per Cattolica e Amare Cattolica. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di aver accettato il nostro invito. Una candidatura la sua che è arrivata forse in modo inaspettato da parte di qualcuno. Ricordiamo che Giovanna Ubalducci è stata assessore nella giunta a Cecchini, quindi un'attività amministrativa, una realtà amministrativa che conosce molto bene. Una candidatura arrivata per quale motivo? Anche così per sgombrare i dubbi da un po' di tutte le polemiche che sono state fatte nelle ultime settimane. Mi ringrazio intanto di darmi l'opportunità di chiarire nuovamente questo percorso veloce che ho fatto e questa scelta perché ho già avuto modo di chiarire in un'altra intervista e anche sui giornali, però chiaramente la comunicazione deve essere sempre quanto più diffusa possibile. Ma niente, io sono ancora intanto assessore perché fra un po' finirà, amo ancora le mie deleghe all'interno dell'amministrazione Cecchini e l'amministrazione uscente. La mia scelta di creare due liste civiche nasce dal fatto che pur essendo stata fino a poco tempo fa all'interno del mio partito, che è sempre stato il Partito Democratico, in cui tra l'altro ho ricoperto anche dei ruoli importanti, poi purtroppo in questa tornata elettorale, per una serie di motivazioni che sono state per lo più legate al percorso post-primarie, c'è stata, secondo me, una prevaricazione rispetto a quelli che erano i processi democratici che all'interno di un partito, secondo me, come è il Partito Democratico, che è un grande partito di massa, un partito che ha da sempre raccolto varie sensibilità, che dovevano invece essere con più attenzione portate a termine. C'è stata invece una prevaricazione, per quanto riguarda il programma, che non è stato condiviso all'interno degli organismi dirigenziali del partito, così come non c'è stata la possibilità all'esito delle primarie, che comunque hanno decretato una vittoria sicura, inconfutabile del candidato Gambini, sul quale nessuno avrebbe interferito in minimo modo, perché questo è il metodo delle primarie, però ci doveva essere, secondo me, un processo di inclusione, insomma, anche di quell'anima, diciamo, diversa, che rappresentava comunque il 38% e che non aveva vinto e che doveva, secondo me, avere un suo riconoscimento, soprattutto per quanto riguarda i programmi, perché i programmi dei due candidati non erano esattamente uguali e quindi era logico che sarebbe stato necessario mettere insieme le varie sensibilità, le varie anime. Cosa che non è avvenuta. Cosa che non è avvenuta. E questo mi ha portato a fare una scelta repentina, perché è ovvio che io avrei potuto eventualmente candidarmi anche prima delle primarie, ma non era ancora nelle mie corde questo discorso, è nato dopo a seguito appunto di questi comportamenti che non mi sono piaciuti e quindi mi hanno dato modo di creare invece un'alternativa. Anche perché ricordiamo che Gambini e Piva, subito dopo le primarie, insomma, dissero andiamo, adesso a questo punto facciamo un programma unico, lavoriamo insieme per andare a governare la città. Quali sono state le cose che soprattutto sono mancate in questa coesione di intenti che Gambini avrebbe dovuto portare avanti per tutti? Esatto, beh, appunto, proprio quello che lei diceva, cioè nel senso che c'è stata un'apertura molto forte da parte del, chiamiamolo del gruppo dei perdenti, insomma, di Corrado Piva, per dare modo di esaltare anche la vittoria appunto del candidato. L'unica condizione che era stata posta, condizione, non è una condizione, secondo me è un fair play politico, era quello di dire sosteniamo assolutamente la tua candidatura, però riconosceteci quantomeno anche una parte del nostro programma che era appunto importante per quella parte e dateci anche un riconoscimento per quanto riguarda eventualmente le figure in consiglio comunale da poter mettere in lista, che mi sembrava una cosa molto ragionevole. C'è stata invece una chiusura in questo senso da parte del candidato con addirittura un comunicato stampa che è uscito il giorno dopo della direzione in cui si era parlato praticamente di questo, questa chiusura ha determinato ovviamente una frattura. Allora, addentrandoci nei programmi, magari partiamo proprio dai punti che hanno portato a questa divisione. Su quali aspetti non si è trovato un'unità di intenti? Ma intanto devo dire che sicuramente per quanto riguarda la parte che per me invece è predominante, infatti l'ho trasfuso nel mio programma che ovviamente adesso è sostenuto da due liste civiche, ovviamente io sono uscita dal mio partito per poter fare questo percorso. Però qualcuno l'ha anche seguita almeno? Ci sono, sì, ci sono state persone che mi hanno seguito, che ovviamente hanno capito e mi hanno supportato e che tuttora sono nelle mie liste, ecco però ci tengo anche a precisare che non sono tantissimi quelli che sono usciti, la stragrande maggioranza delle liste sono persone che non hanno mai fatto politica, sono due liste molto trasversali e quindi sono 30 persone che si mettono in gioco non avendo mai fatto politica con delle competenze molto variegate. Ecco, e dico, quello che è caratterizzante nel nostro programma è, dico stranamente perché di solito viene un po' sottaciuto nei programmi, è la parte che riguarda le politiche sociali. Io particolarmente vengo da un'esperienza, i miei assessorati sono assessorati che sono molto sensibili a questo perché oltre all'urbanistica ho anche le deleghe alle politiche di genere, alle pari opportunità e adesso ho assunto quelle delle politiche sociali perché il collega Galvani ha dato le dimissioni e quindi mi sono accorta proprio facendo una politica sul campo che ci sono degli aspetti che devono essere assolutamente risolti, vale a dire ad esempio il problema dell'emergenza abitativa perché noi a Cattolica abbiamo 124 alloggi in edilizia si dice popolare ma che non sono assolutamente sufficienti per far fronte a quello che dovrebbe essere invece un diritto per tutti e cioè appunto il diritto alla casa specie per le persone disagiate. Quindi abbiamo messo nel nostro programma un'attenzione particolare per l'emergenza abitativa con la creazione di uno sdoppiamento di alloggi tale per cui avremo un parco diciamo così di edilizia popolare molto più nutrito perché attraverso quest'operazione di sdoppiamento di alloggi più grandi avremo la possibilità di averne altri circa 15 in edilizia popolare. Abbiamo messo in campo un'azione molto forte di sensibilizzazione con i locatori cioè con i proprietari di case che se daranno la disponibilità di dare degli affitti più calmerati avranno sgravi fiscali e nello stesso tempo avranno la garanzia del comune per il pagamento di una parte del canone e questo è molto importante perché così riusciamo a sopperire diciamo così alle carenze appunto abitative. Abbiamo stabilito la possibilità di avere e lo faremo perché abbiamo anche la struttura l'abbiamo già individuata un si dice alloggio sociale per anziani perché il problema grosso oggi è proprio l'emergenza anziani cioè persone che vuoi perché sono esodati vuoi perché non hanno più lavoro vuoi perché non lo trovano perché hanno un'età appunto critica molto spesso vengono i servizi sociali poi tu perdi perdi le tracce di queste persone e quindi perdendo le tracce non sai più neanche dove vanno con chi sono le famiglie non le hanno più e quindi abbiamo pensato di fare una mappatura proprio degli anziani che hanno questa diciamo così disagio e di creare una struttura che un albergo appunto sociale che sopperirà alle emergenze diciamo immediate quindi non una struttura protetta proprio una cosa diversa che sopperirà ad un'emergenza temporanea in attesa di trovare una collocazione definitiva. Abbiamo poi pensato ad un fondo di sostegno per le imprese e le imprese che occupano persone appunto che si trovano in una situazione di disagio e prevalentemente ovviamente persone residenti perché noi conosciamo un bacino appunto nostro che quello dei residenti e un fondo anche a sostegno dei giovani delle start up under 35 che sono quelli che ci chiedono sempre una maggiore attenzione per quanto riguarda appunto la collocazione di giovani che magari vogliono aprire un'attività vogliono aprire appunto qualche vogliono avere qualche opportunità in più e quindi un fondo di sostegno proprio anche per loro e poi tutto un insieme di politiche legate alle donne che hanno subito violenza perché noi non dimentichiamo che a Cattolica sotto il mio assessorato abbiamo già uno sportello antiviolenza all'interno del centro per le famiglie, noi abbiamo un centro per le famiglie che è distrettuale ed è a Valenza regionale quindi prende i fondi dalla regione Emilia-Romagna perché fa parte dei 27 centri regionali dei centri per le famiglie. All'interno nel 2012 ho inaugurato proprio personalmente nel senso che fa parte proprio del mio assessorato uno sportello antiviolenza che tre mattine alla settimana è aperto e serve tutto il distretto quindi da Cattolica fino a Ricciuna. È un fenomeno in crescita? È un fenomeno in crescita purtroppo il problema della violenza e anche dei femminicidi è un problema che noi cerchiamo di monitorare essendo in rete. Ricordiamo anche Cattolica purtroppo ha avuto in questo senso anche degli episodi molto tragici. Ha avuto due episodi nel giro di cinque anni quindi non è poco come statistica e tra l'altro a gennaio di quest'anno proprio in virtù di questo fenomeno sono riuscita attraverso sempre i fondi regionali e la provincia ad aprire sul territorio proprio di Cattolica sempre come progetto distrettuale una casa rifugio per donne maltrattate. Quindi noi sul territorio di Cattolica a partire da gennaio abbiamo anche proprio una casa rifugio che può ospitare donne che hanno subito violenza e che troveranno quindi attraverso anche dei corsi poi di inserimento poste diciamo così alloggio la possibilità poi di seguire un percorso psicologico e di essere poi ricollocate. Quindi come vedete sul sociale è molto forte la impronta. Poi per cinque anni ha seguito anche la tematica dell'urbanistica. Esatto. Questa delega ecco come vede l'urbanistica del futuro a Cattolica che ha una conformazione particolare ricordiamo è il comune in provincia con la più alta densità. Più piccolo esatto. Diciamo questo che appunto Cattolica è un piccolo territorio 6 km quadrati di territorio molto come dire molto denso infatti come avete detto e quindi è ovvio che le politiche urbanistiche devono assolutamente non possono più voglio dire essere politiche di sfruttamento del suolo. Sono politiche che devono invece seguire il principio si dice oggi della rigenerazione urbana. Che cos'è la rigenerazione urbana? Non è altro che la riqualificazione dell'esistente. La riqualificazione dell'esistente attraverso appunto progetti virtuosi di messa anche in sicurezza dell'edificio con la promozione di politiche energetiche appunto che sono assolutamente importanti in modo tale che non si creino edifici energivori si dice ma invece edifici che possano portare appunto ad un risparmio energetico. Cattolica ha messo appunto attraverso il mio assessorato due situazioni molto importanti ai fini appunto di creare questa rigenerazione quindi un consumo molto basso diciamo così non posso dire inesistente perché purtroppo è chiaro che ci portiamo dietro ancora ad esempio dei progetti che riguardano le passate legislature che quindi devono essere attuate perché purtroppo l'urbanistica è lenta, ha dei percorsi voglio dire che oggi finiscono fra sei anni. Poi tutto il tema della crisi che c'è stato nel mezzo è chiaro che ha rallentato quindi il piano operativo comunale, il famoso POCA, una valenza quinquennale, un progetto che tu diciamo così metti a punto oggi e lo vedi attuato fra cinque anni quindi ecco questo per intenderci. Però Cattolica ripeto ha fatto già, ha messo già le basi appunto per una rigenerazione importante, una rigenerazione urbana importante ad esempio con il nuovo piano della Renile che è stato appunto approvato sotto il mio assessorato nel 2013 è stata creata la possibilità dell'aggregazione degli stabilimenti maniari, le cosiddette UMI con premialità che sono però premialità che incidono, attenzione non sui volumi, vale a dire il corrispettivo era tu mi abbassi il volume di costruito quindi meno duplicazione di cabine e cose appunto impattanti rispetto alla visuale marina, io ti do la possibilità ad esempio di fare cose che non impattano tipo piscine in modo tale che tu hai un servizio aggiuntivo ma diminuisci appunto il volume. Qualcuno ha aderito a questo? Moltissimi, il piano della Renile ha avuto un successo strepitoso soprattutto per la zona di Ponente che è quella che a Cattolica va per intenderci praticamente dal, chiamiamola da dopo il curso al fino alle navi e qui ha avuto un impatto strepitoso, si sono adeguati tutti al nuovo piano, è un fatto delle cose meravigliose. A Levante stenta un po' a partire ma per problematiche diverse perché a Levante si soffre un po' della situazione di una spiaggia che è comunque all'interno del centro e quindi molto povera anche di strutture alberghiere e quindi lì c'è una difficoltà di tipo diverso. Però riagganciandomi oltre che al piano della Renile e anche ad esempio alla nuova strumentazione urbanistica, noi siamo andati in adozione quindi recentissimamente a dicembre del 2015 di due nuovi strumenti urbanistiche che sono appunto il nuovo POC e il nuovo RUE sul quale proprio abbiamo già implementato appunto politiche di contenimento molto forte del consumo del suolo proprio all'impronta di tutta la rigenerazione urbana e quindi l'adeguamento delle nuove leggi regionali, dalla legge 15 ad esempio ma di altre leggi anche ulteriori che sono subentrate che fanno della rigenerazione urbana il loro diciamo così elemento, il light motive e quindi noi ci siamo adeguati e adesso però dato che siamo nella fase dell'adozione dovremo nella prossima legislatura approvare, arrivare all'approvazione. Prima parlava di Bagnini, di Renile, immediato viene il riferimento anche al più ampio discorso del turismo di Cattolica. Noi in questi giorni anche sentendo altri candidati molti dicono l'amministrazione in questi cinque anni si è curata di far quadrare dei conti che cinque anni fa non erano proprio idilliaci diciamo così perfetti, però magari ha avuto poca attenzione anche al decoro, alle manutenzioni, quindi anche dal punto di vista turistico questo è stato penalizzante. Allora è assolutamente vero che il decoro urbano, che gli asfalti, che quindi l'arredo nel suo complesso di Cattolica è un arredo che necessita di una grande manutenzione non solo ordinaria ma anche straordinaria. Nel mio programma abbiamo addirittura dato delle cifre, nel senso che metteremo a disposizione per ricreare il nuovo appeal della Regina perché è il primo biglietto da visita per chi ovviamente entra in una città che ha, un turista ha diritto di vedere una città pulita, confortevole, bella perché ovviamente spende dei soldi in quella città e quindi deve starci al meglio. E quindi noi nel mio programma, noi come lista ma voglio dire io personalmente anche come impegno, ho scritto nel programma che noi investiremo oltre un milione di Euro tutti gli anni per cinque anni appunto per preoccuparci di ristabilire questo decoro urbano che è andato perduto un po' nel tempo. Volevo precisare che la motivazione per la quale l'amministrazione uscente non ha potuto mettere mano da subito a questa cosa è proprio quella un po' che avete annunciato, cioè vale a dire in questi cinque anni il problema dell'amministrazione Cecchini è stato quello di una spendi review molto rigorosa, perché in cinque anni sono stati diminuiti 11 milioni di Euro di debito, siamo arrivati dove c'era un debito esponenziale che superava i 34 milioni di Euro ed eravamo sull'orlo del dissesto finanziario, il che avrebbe voluto dire non solo il commissariamento ma avrebbe voluto dire incrementare la tassazione di tre volte di più, i servizi a domande individuali incrementarli nei costi e molti supprimerli. Quindi abbiamo dovuto fare una scelta, una scelta come quella del buon padre di famiglia che quando vede che la famiglia è sull'orlo del fallimento decida non tanto di dipingere le pareti o di cambiare i mobili ma di dare da mangiare, cioè soddisfare i bisogni primari. Adesso però siamo in una fase dove i conti sono a posto, abbiamo un bilancio risanato, abbiamo un avanzo di bilancio, il che è qualcosa veramente di importantissimo perché insomma è veramente un record e quindi siamo nelle condizioni di ripartire da subito e il mio slogan è esperienze cuore, perché? Perché l'esperienza è quella che mi ritrovo avendo ovviamente ancora, sono ancora in amministrazione quindi conosco come si può immediatamente partire e il cuore è perché abbiamo sofferto anche noi in questi cinque anni nel vedere che c'era un'impossibilità di poter investire anche per il patto di stabilità, perché non dimentichiamo che il patto di stabilità che ha congelato e ingessato tutti i comuni fino alla fine del 2015 impedendo di investire proprio su quelle che erano anche opere necessarie, vuoi anche gli edifici scolastici ad esempio, vuoi anche gli edifici sportivi, non abbiamo potuto mettere mano a nessun tipo di opera straordinaria, per fortuna il patto di stabilità adesso da gennaio 2016 per la nuova legge finanziaria è stato abolito, questo ci consente quindi di fare un'opera di velocizzazione di quelli che sono… Andando dove per quanto riguarda il turismo? Andando dove? Bella domanda anche questa, andando dove? Ma intanto il grosso problema è che a Cattolica ha una stagione sempre più corta e quindi è chiaro che la famosa destagionalizzazione deve captare quelli che sono i segmenti, chiamiamolo così, della stagionalità che non è proprio ancora inverno ma non è ancora estate, quindi mi riferisco ad esempio a quel periodo un po' morto della fine di maggio, primi di giugno, quel periodo di settembre eccetera, lì facendo una statistica abbiamo visto che possiamo riempire ancora con oltre 5.000 presenze, quindi abbiamo bisogno di dare degli input che siano proprio quelli, trovare degli eventi, dei contenitori, delle situazioni che smuovano in quel periodo. Abbiamo già un bellissimo progetto in campo che è proprio qua, nel senso che è già finanziabile dalla regione che è il Museo Marconi e cioè è il museo praticamente della scienza e della tecnologia che verrà ospitato all'interno della struttura delle navi e sarà un polo importante scientifico che raccoglierà quindi anche congressi proprio in merito alle nuove tecnologie e quindi questo sarà sicuramente un polo di attrazione, considerando che le navi sta facendo veramente una politica assolutamente esponenziale di presenze notevolissime e questo quindi sarà già un elemento. Un'altra cosa molto importante, abbiamo un festival che deve essere assolutamente incentivato perché tra l'altro è la fine di giugno, quindi in quel periodo come dicevo, che è il Dance Fest, cioè è una rassegna, una kermesse internazionale dove vengono tutte le migliori rituale del mondo e portano circa 3.000 persone a Cattolica. Dobbiamo incrementare il turismo sportivo perché abbiamo bisogno attraverso appunto il turismo sportivo, quindi praticamente degli eventi che riguardano lo sport con dei contenitori ovviamente adeguati, di poter poter incentivare un po' di più la attrezzatura sportiva. Esatto, e anche lì abbiamo un piano proprio di ristrutturazione di quelle che sono le palestre, di quello che è il palazzetto che attualmente può essere in qualche modo omologato per avere anche delle presenze in più, ma abbiamo anche dei bellissimi contenitori culturali, noi abbiamo praticamente una pinacoteca, abbiamo due teatri, abbiamo quindi la possibilità di poter inserirci. Le fiche forse vanno ancora di più? No, vanno ancora incrementati perché fare delle mostre ad esempio dove tu puoi attraverso i tuoi contenitori far accedere degli artisti anche non solo locali ma anche di fama nazionale dandogli la possibilità di utilizzare degli spasti gratuitamente ti crea la possibilità di portare chiaramente indotto. Un'altra situazione importante che andrei a valorizzare è il discorso che Cattolica per la sua posizione molto felice, dico territorialmente, è all'interno noi la chiamiamo di una Green Blue Valley, cioè di una valle di confine tra il San Bartolo delle Marche, tra i castelli di Montefiore, di Mondaino, di Monte Gridolfo, il mare, tutto il bacino dello sport anche di San Giovanni con il Lieviera Ursus eccetera che va comunque valorizzata, quindi facendo anche festival ad esempio di enogastronomia oppure incentivando quelli che sono proprio le visite guidate in questa introterra si può creare una sinergia importante per portare appunto a questa giornalizzazione. Giovanna ha citato San Giovanni, l'idea della fusione come la vede? L'idea della fusione io so che stanno lavorando da tempo, so che stanno perché è un progetto tra sindaci ovviamente, so che c'è questa propulsione sia da parte di San Giovanni che da parte di Cattolica, ma noi stiamo già mettendo in rete dei servizi, cioè dei servizi insieme, stiamo tentando di mettere insieme dei servizi intanto, ma io non la vedo male il discorso della fusione, noi in origine eravamo già a fusi, nel senso che eravamo ovviamente, voglio dire, le differenze fra San Giovanni e Cattolica sono molto evidenti, San Giovanni ha molto territorio e Cattolica ne ha poco e Cattolica vive a due misure di velocità, cioè l'inverno e l'estate che triplica la sua velocità in tutti i sensi, San Giovanni invece avrebbe appunto la possibilità di avere un territorio ancora secondo me non sfruttabile come ho sentito dire in alcune interviste urbanisticamente, non in quello, ma sfruttabile invece per quello che sono le bellezze naturali, per quello che è ad esempio lo slow tourism che noi abbiamo messo nel nostro programma, che cos'è? Il turismo lento, il turismo fatto della passeggiata, della riscoperta, della mobilità lenta, dell'uscire dalla frenesia, voglio dire, della città per ritrovarti in un parco dove tu puoi pensare e dopo cinque minuti puoi essere al mare, ecco, è un po' questa la vision, diciamo, io non la vedo male la fusione. Ha parlato di mobilità lenta, allora facciamo anche il tema della viabilità, delle piste ciclabili. Lei il prode l'ha vissuto da dentro? Sì, è il famoso prode. Il prode è indesco come progetto. Il prode è indesco come progetto. Il prode è indesco come progetto. Però anche da lì poi per esplodere un po' il tema della viabilità. Sì, 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 certo, nel mio programma c'è anche, come dire, un atto di coraggio, vale a dire, dobbiamo rivisitarlo questo progetto, rivisitarlo vuol dire capirne le criticità e capire anche perché non ha funzionato. È un progetto regionale che aveva una valenza di, appunto, favorire gli utenti deboli, la mobilità lenta, appunto, come ho già detto. Io sono favorevole alla mobilità lenta, ma non sono favorevole che si scateni un inferno se tu devi una mobilità lenta. Cioè, voglio dire, deve diventare il pomo della discordia, insomma. Allora, però ci tengo a precisare questo. Gran parte di quel progetto è stato già realizzato ed è stato realizzato nella zona di Corsitalia, appunto, a ridosso di Misano e quindi dalle navi venendo giù fino a Cattolica c'è, tutto è stato già attuato, un progetto di nuovi parcheggi che sono stati fatti a spina di pesce, è stata fatta una nuova asfaltatura, è stato quindi anche, diciamo così, in qualche modo abbellito l'ingresso della città da parte, appunto, di Misano, quindi ed è stata creata una pista ciclabile che deve raccordarsi con il centro. Direi che questa situazione, secondo me, è una situazione che in qualche modo è stata la parte positiva del prode, cioè ripeto, gran parte del finanziamento è andato lì, poi di fatto, no? La parte critica invece è quella su Lungomare e Rasi Spinelli e lì dobbiamo aprire un capitolo un po' spinoso perché Lungomare e Rasi Spinelli che è il nostro lungomare e che vive nel nostro sentimento perché per noi la passeggiata ovviamente di lezione, la promenade, eccetera, eccetera, però insomma è un lungomare che ha le sue criticità perché, come ha detto anche qualcun altro, mi sembra Gennari e io concordo, noi abbiamo lì una viabilità che risente del fatto che non abbiamo altre vie di fuga, non abbiamo delle vie parallele, lì abbiamo solo quel raccordo che è il lungomare che poi si raccorda da una parte con via Carducci che è la parte degli alberghi e dall'altro con via Fiume che ti porta poi alla statale. Allora, cosa si può fare? Sicuramente si può pensare eventualmente ad una variazione del senso di marcia perché molti si sono lamentati che quel senso lì è sbagliato e quindi lo puoi mettere dall'altra parte, quindi sostanzialmente Misano-Gabice, non più Gabice-Misano. Poi c'è la pista ciclabile, lì, allora, molte preoccupazioni per il cordolo, la pista ciclabile però attualmente viene molto usata, devo dire, e ci sono molti cittadini che hanno fatto anche molti apprezzamenti. Allora, cosa si fa? Io penso comunque, e l'ho messo nel programma, ad un piano della viabilità generale, cioè nel senso che noi dovremmo studiarcelo bene questo piano della viabilità generale perché quello precedente è datato, è del 1995 e sono cambiate tante cose. Quindi partiremo da uno studio approfondito sul piano della viabilità generale. Per quanto riguarda quello che possiamo fare da subito è vedere, appunto, di capire se questo senso di marcia in via Rasi Spinelli può essere modificato, se la pista ciclabile ulteriore di via fiume possiamo soprassedere su quella perché effettivamente creerebbe un problema infinito su via fiume e poi sederci anche ad un tavolo tutti insieme concertando quelle che sono le strategie future perché obiettivamente sto anche pensando quando faremo il lungomare nuovo, che c'è un progetto già, un concorso di idee, bisognerà assolutamente lì rivedere tutto un problema di viabilità, tutto un problema di parcheggio e di sosta. È rimasto pochissimo tempo e le chiedono 30 secondi anche sull'ospedale. Ecco, scuola e ospedale, 30 secondi sono 15 secondi per ogni tema molto difficile. Allora, la scuola, parto dalla scuola, massima attenzione agli edifici, sappiamo che anche gli edifici scolastici in questi cinque anni hanno sofferto, per noi la scuola è prioritaria e quindi anche qui abbiamo destinato dei fondi per poter già da subito mettere intanto in sicurezza alcuni edifici, ridare quel lustro che sono le nuove attrezzature di tipo tecnologico ma anche ludiche che mancano perché sono ovviamente obsolete e quindi faremo un intervento immediato su questo discorso. Abbiamo fatto una scuola nuova in questa legislatura, questa scuola nuova ha risolto molti problemi per le materne, ovviamente abbiamo investito molto su quello, però il nostro impegno è quello di investire ancora per l'eccellenza della scuola di Cattolica. Mensa interna o esterna? Mensa interna o esterna. Ho avuto modo di chiarire nel dibattito che da uno studio che abbiamo fatto, perché anche noi avremmo voluto internalizzare all'interno della legislatura, non c'è risparmio e quindi bisogna pensarci bene, oggi un pasto costa 5,15 euro, secondo il nostro studio costerebbe 5,95 euro, quindi bisogna pensarci bene, internalizzandola. Secondo me non è così vero perché mi sono guardato tutti i verbali del comitato di mensa dove ci sono i genitori, gli insegnanti, la dietista e tutti quindi i rappresentanti dei genitori, mi sono guardato tutti i verbali dal 2013 ad oggi, non c'è questa criticità rispetto alla qualità, c'è una criticità riguardo lo spreco. Cioè al cibo che avanza, ma questo è un altro problema. Per quanto riguarda l'ospedale, velocissimamente l'ospedale è il senso di appartenenza di Cattolica, lo difenderemo in tutti i modi, sappiamo che la sanità sta cambiando, ma noi vogliamo anche attivare dei, proprio in rete con l'ospedale, anche delle situazioni, ne abbiamo parlato per la sanità ultimamente, anche di corsi di formazione per volontari, per soprattutto la riabilitazione degli anziani, inseriti ovviamente all'interno del percorso di rete ospedaliero. Noi all'ospedale ovviamente non vogliamo rinunciare assolutamente, valuteremo anzi la possibilità di mantenere le eccellenze e le specialità che sono all'interno dell'ospedale e lavoreremo per un servizio di prossimità, che vuol dire appunto attraverso la rete ospedaliere dei servizi su tutto il territorio per portare ovviamente i servizi di rete con le nostre possibilità ovviamente. Siamo comunque nella conferenza dei servizi come tutti i sindaci e lì possiamo incidere. E chiudiamo con un appello al voto allora. L'appello al voto, allora il mio slogan è esperienze cuore. L'appello al voto è perché conosciamo già la macchina comunale, possiamo ripartire da subito, forse contrariamente a chiunque venga che dovrebbe fare sicuramente un anno di rodaggio per conoscere la complessità della macchina comunale, sono già dentro, ho l'esperienza che serve, ritengo di poter avere anche quella capacità e quella sensibilità per cogliere effettivamente appunto col cuore e con la passione quelle che sono le stanze dei miei cittadini che conosco molto bene perché sono di cattolica da sempre e quindi sono radicata molto sul territorio e quindi vi chiedo di darmi fiducia, ma di dare fiducia soprattutto alle liste civiche che mi sostengono, che sono persone tutte di cattolica e quindi conoscono le problematiche del nostro territorio.